Buongiorno Nennede, buongiorno, buongiorno, stai in ritardo, ti aspettavamo ieri? Ho avuto molto da fare, ma adesso mi tratterò qualche giorno. Sì, bravo, bravo. E di un po', quel tuo affare di Berlino, come va? Ah, quello è concluso. Anzi, fra 15 giorni dovrò tornarci per definire. Dovrai stabilirti a Berlino. Eh, già? Ma potrei anche cedere la Pantone. Mi hanno fatto delle ottime offerte. Ma sai, non ho ancora deciso. Ma siete qui, buongiorno. Oh, Max. Come va, zia? Quando sei arrivato? Poco fa. Ciao. Ciao. Oggi sono molto contento di me. Faceva un freddo, un freddo, ma c'era un'aria limpida, una luce. Dei colori magnifici. Ora vi faccio vedere. Vedrai, vedrai, Max. Sei fortunato, Massimo. Eh? Potrai vedere un quadro di mamma prima che il mercato internazionale lo porti via. Vediamo, vediamo. Guardate questo cielo. Non sembra che l'aria tremi. Io, è vero, tremo. Tremo. A proposito, Giovanni, questa sera Elmer Strill riceve nel suo studio. Ci vanno dei critici d'arte, dei commercianti di quadri. Elmer Strill ha tanto insistito. Mi vorrebbe presentare a Kenabier, il grande commerciante parigino che è qui di passaggio. Non ho potuto dire di no. Ma ci andresti da sola? Eh, diamo, in un ambiente d'artistiche, c'è di male. No, puoi farti accompagnare da Nennele. Io? Già, sono un'educanda, ho bisogno della sorvegliante. Mi deve accompagnare Nennele. No, Nennele non ci andrà. Cosa dici tu? Ti domando scusa, papà, ma tu non conosci... Cosa? Avanti, spiegati. Sì, quella non è una società... Cosa vorresti dire? Non è una società rispettabile? È rispettabile la casa che frequenti tu, forse. E quale casa? Chi, Tommy? Non vai stasera a pranzo dall'Orloff? E chi è questa? È una bella... Non ho domandato a te. Chi è questa signora Orloff? Eh? Oì. Non rispondi? Ma non mi rispondete nessuno? Ma insomma, in casa mia dovrò essere il solo a non sapere mai niente? È una signora che conosco, una straniera. Mi ha invitato qualche volta. In fondo io sono un uomo. Per me è un'altra cosa. Ma basta, basta! Io lo facevo per vendere dei quadri. Per contribuire all'economia della casa. Vuol dire che non ci andrò, non ci andrò. E non se ne parli più. Grazie a tutti. Ciao! 廉